Se non verranno apportate modifiche alla legge di stabilità, entro giugno del prossimo anno verrà inaugurata l'Interquartieri. A dare l'annuncio è stato il sindaco di Fano Massimo Seri durante una conferenza stampa, convocata lungo il cantiere, insieme all'assessore Cristian Fanesi, ai tecnici e alla ditta Cisappalti di Teramo, che sta proseguendo i lavori da maggio 2013. Questo interquartieri è un percorso che ha visto tre amministrazioni coinvolte, se pensiamo anche al primo tratto, dalla giunta Canaroli e la giunta Guzzi, che nel 2009 ha finanziato l'opera. Noi quando ci siamo insediati siamo trovati con il cantiere aperto che rischiava di rimanere una incompiuta. Soddisfazione per questo risultato, stiamo proseguendo anche abbastanza velocemente, poi sotto gli occhi di tutti, anche con delle attenzioni, come ad esempio la pista ciclabile. L'abbiamo pensato anche in rosso, che si evidenzia. Anche questa è una buona risposta per la città. L'opera ha un costo complessivo di 3 milioni e 200 mila euro e all'attuale giunta ne restano da pagare 1 milione e 700 mila. Comprende tre rotatori, in via Fanella, via della Fornace, quella conclusiva in via Trave, con una uscita ed entrata anche in via L'Italia. Sono già stati completati l'impianto fognario e le tubature necessarie per la banda larga e sono state posizionate di fronte alle abitazioni le barriere per i pannelli fuono assorbenti. Queste strutture, come ha spiegato il direttore dei lavori Maurizio Gili, sono in acciaio corte, in un materiale molto resistente, del colore che più si lega con l'ambiente. Modifiche in corso d'opera sono state apportate invece al progetto che riguardava l'impianto tradizionale di illuminazione pubblica. Andando ad inaugurare un'opera il prossimo anno, il 2016, era un'opera anacronistica, sarebbe stato un intervento veramente oltre che controproducente a livello di immagini e anche di costi. Quindi ho ritenuto di cercare delle soluzioni interne con modifiche di dettaglio per consentire di mettere l'illuminazione a LED e quindi rendere tutto questo tratto di nuovi interquartieri al pari con i tempi. Il nuovo tratto dell'interquartiere lungo circa un chilometro nel suo complesso collegherà Sant'Orso, San Cristoforo, Fano II, Poderino e Trave. Con il completamento di quest'opera verranno studiate modifiche alla viabilità nei quartieri limitrofi, con nuove pisse ciclabili e sensi unici come in via Fanella, per mettere in sicurezza ciclisti e pedoni. Preoccupazioni per i cambiamenti sono arrivate però dai residenti del Poderino, che sabato scorso hanno incontrato l'assessore Fanesi. Noi abbiamo garantito la piena disponibilità a rivedere magari con piccoli interventi la viabilità del quartiere Poderino, la luce dell'apertura della nuova strada interquartieri, dei piccoli miglioramenti progettuali che potremo fare anche in via della Trave, oltre che in via L'Italia, piena disponibilità a collaborare, non ci sono problemi, siamo qua insomma.